ciao ragazzi oggi sono con lei WDL Synergy e vi porto a fare un giro tra San Daniele, Gemona e Coseano è un POV per cui zero chiacchiere e praticamente solo guida al prossimo video ciao 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 Grazie. 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 Buon pomeriggio. Ciao ragazzi anche a voi. Perchè c'è da dire che al corso Polità di Robigo ci siamo andati e... ...e... 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 ... 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.